Siamo con Cristian Matteoli, questo signore l'anno scorso ha vinto il titolo di campione d'Italia individuale, quest'anno lo ha sfiorato, terzo assoluto, quindi ancora una volta sul podio, insomma sei sempre tra i protagonisti, un pescatore a tutto tondo come si dice, perché sai interpretare le pesche in qualsiasi posto tu ti trovi, un canale di San Siro che non l'hai frequentato molto negli anni passati, ma che è stata una sorpresa positiva per tutti. Sì, è un bellissimo canale, nuovo un po' per tutti, perché la pescata è una pescata un po' diversa da tutti gli altri campi gara, è una pescata corta, si fa un po' quasi tutta a mano, quindi è una novità un po' per tutti, c'era da mettersi a posto, ci siamo riusciti su questo weekend insieme a Jacopo, abbiamo messo a posto la pescata, siamo venuti fuori tutti e due con due primi. Un po' di rammarico per quanto riguarda il titolo che se ne va, però Stefano è un amico, premoli, e sono contento anche che l'abbia vinto lui. Mi spiace un po' per Jacopo perché è tanti anni che lo insegue, però sono sicuro che prima o poi ci riuscirà. Sicuramente Jacopo è uno che ci ha provato fino alla fine perché ha vinto oggi un settore molto tirato, Stefano è stato superlativo con una bella pescata, ma anche te non hai scherzato, quindi voglio dire la creme dell'agonismo. Ce la siamo tirata fino all'ultimo pesce su pesce, fino all'ultimo minuto, via. Comunque è stata una bellissima esperienza questo fine settimana perché campo gara splendido. Io consiglierei a tutti di venire a provare perché questo campo gara qui fa sicuramente bene alla pesca e a tutto l'indotto. Anche per i ragazzini è comodo perché c'è la sponda bassa, per le famiglie è tutto un pratino bellino, è pieno di pesci, ci si diverte, i bambini possono pescare vicino alla riva e possono catturare molti pesci. Ci racconti le tue lenze e poi ti chiedo anche l'approccio, soprattutto quello finale, quando dovevi mettere l'ultimo sprint alla tua gara. Le lenze come le hai preparate per questo canale? La lenza è una lenza semplicissima, una madre del 12 con una spallinatina su 15 cm, pallini piccoli sotto vicino all'asola, finale corto di 15 cm, è sempre pescato con un bigatto e con due bigatti. Ami? Amo del 14, un B957 del 14. Come galleggiante ho adoperato un menta fissa, un menta di quelli della Colmice. Sì, sì, ho visto, voglio dire, alla fine ho visto che hai cominciato a forzare molto con la pasturazione, l'hai fatto perché speravi di far entrare qualche pesce d'Italia, qualche carpa in più? No, l'ho fatto perché l'ultimo avevo rallentato un po' mi era entrato un po' il pesce d'Italia, si era un po' allontanato perché dopo quattro giorni di pasturazione così intensa il pesce comincia a diventare diffidente e mi era entrato un pochino di disturbi, avevo un po' di bremettine sotto, un po' di gattarelli, allora ho rincollato i bigatti che mi erano avanzati e ho fatto una forzatura l'ultimo quarto d'ora per vedere se mi facevo rientrare qualche carpa. Due o tre l'ho preso, però vabbè, tanto avevo vinto lo stesso. Hai vinto un bel settore anche oggi, insomma, complimenti, sei terzo assoluto sul podio anche quest'anno. Una bella soddisfazione. E si riparte, è sempre vento in poppa. Certo, come sempre. Bene, a tutti un caro saluto. Ciao a tutti. Cristian Matteoli dal canale Parmigiana Moglia di San Siro. Ciao. Alla prossima.